Si è conclusa la prima tappa di World Cup, oggi due finali veramente emozionanti, due ori, la nostra squadra ha conquistato sul campo questo meritatissimo risultato e quindi posso solo dire grande soddisfazione e grande orgoglio. Il lavoro da qui ai campionati del mondo sarà ancora tantissimo, però iniziare la stagione con queste importanti medaglie, queste conferme del lavoro raggiunto fino a questo momento per me è di grande buono auspicio per il mese di settembre.